Imprese 900.000 euro della GAL Natiblei. La regione siciliana sostiene il sistema produttivo colpito dall'emergenza del Covid-19 con un contributo a fondo perduto destinato alle micro imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi alberghiere. L'agevolazione è fino a un massimo di 35.000 euro, concessa attraverso un bando con procedura semplificata su piattaforma informatica dedicata. La dotazione finanziaria è di 125.000.000 euro. Attraverso bonus Sicilia, la regione intende fornire liquidità alle aziende più piccole per compensare la riduzione di fatturato sofferta durante il lockdown, come previsto dalla legge di stabilità regionale 2020-2022. Le risorse finanziarie europee, nazionali e regionali provengono da una specifica riprogrammazione del programma operativo FESRE Sicilia 2014-2020 per fronteggiare l'emergenza del Covid-19. A tale azione di supporto si affianca anche il sistema GAL Natiblei, agenzia di sviluppo degli Iblei, presieduto rispettivamente da Vincenzo Parlato e Paola Menta, con un fondo di garanzia riservato di circa 900.000 euro destinato alle imprese non solo rurali dei 17 comuni del territorio, Ibleo, che aderiscono alle due strutture consortili pubbliche e private, tra questi il comune di Canigattini-Bagni. Le procedure di adesione per il contributo a fondo perduto del sistema GAL Natiblei, agenzia di sviluppo degli Iblei, sono quelle previste per il bonus Sicilia, per cui è urgente dotarsi di identità digitale Speed e registrarsi dal 21 settembre 2020 sulla piattaforma Sicilia Pay, per poter poi partecipare dal 5 ottobre al click day premendo il pulsante invio. Se non si è registrati non si può richiedere il contributo a sostegno della propria attività. Possono accedere a bonus Sicilia le aziende artigiane e commerciali e industriali di servizi alberghiere classificate come microimprese, cioè con meno di 10 dipendenti a un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro che hanno sede locale e operativa in Sicilia alla data del 31 dicembre 2019 e che hanno avuto l'attività economica sospesa durante il lockdown. Possono altresì accedere le imprese alberghiere che non hanno esercitato l'attività economica, ovvero che abbiano avuto una diminuzione di fatturato nel periodo marzo-aprile 2020. Il bonus Sicilia prevede un atantum di 5.000 euro alle imprese che hanno avviato l'attività dopo il 31 dicembre 2018, un atantum di 6.000 euro alle aziende che hanno avviato l'attività prima del 1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale forfettario nell'anno di imposta 2018. 5.000 euro più un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi calcolato in base al fatturato volume d'affari del 2018, le imprese che hanno avviato l'attività prima del 1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale ordinario. nell'anno di imposta 2018 fino a un massimo complessivo di 35.000 euro per partecipare al bonus Sicilia, pertanto è necessario attivare subito l'identità digitale Speed, precompilare l'istanza sulla piattaforma Sicilia Pay, inviare l'istanza già compilata cliccando sul pulsante invio del 5 ottobre 2020, richiedere l'erogazione di bonus Sicilia. l'avviso sarà pubblicato il 18 settembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito del Dipartimento Regionale di Attività Produttive e su Euroinfo Sicilia.